Ferella, solo una battuta di saluto, quanto è importante e se lo è essere per te questa sera? Questo è importante ed è importante esserci per dare il nostro supporto. Noi abbiamo solo un… chi fa queste cose secondo me sono degli eroi che si mettono in discussione, che si usano la propria energia per creare luoghi come questi. Noi mettiamo solo la nostra popolarità, in realtà facciamo ben poco, sono loro che stanno sul campo al quale andrebbe riconosciuto un lavoro di questo tipo. Nel mio, come dicevo prima, nel mio mondo ideale le scuole dovrebbero essere tutte così, cioè la scuola dovrebbe essere aperta tutto il giorno e non soltanto durante le ore di lezione, per cui dovrebbe essere un posto di aggregazione soprattutto in quartieri di periferia, quartieri dove sono abbastanza abbandonati, per cui è una funzione importantissima, per cui è importante che se noi si dia il nostro appoggio attraverso la nostra popolarità.